Dove saremo noi? Quando cadrà la luna? Non avremo di certo un posto sull'astronave accantare là ci sarà solo gente importante. E noi? Cosa faremo noi? Quando cadrà la luna? Lavoreremo come sempre tutti i presenti nessuno in ferie e per l'ennesima volta, l'ultima si accetterà la sorte. Non una bestemmia contro un dio inesistente non un vaffanculo alla morte non una delle nostre lacrime consumate in altre occasioni inutilmente lavoreremo come sempre tutti i presenti nessuno in ferie e per l'ennesima volta, l'ultima si accetterà la sorte. e per l'ennesima volta, l'ultima e per l'ennesima volta, l'ultima che si accettate che si accettate e per l'ennesima volta, l'ultima e per l'ennesima volta, l'ultima e per l'ennesima volta, l'ultima è un po' di più Grazie a tutti